Buongiorno ragazzi, eccoci qui, ci siamo, buon sabato mattina, allora, video rapido, veloce se fa due chiacchiere perché ragazzi domani è giorno di derby, arriva già questo derby Empoli, Fiorentina, Castellani, ore 18 e 30 derby quindi che arriva insomma prestissimo quest'anno, il 21 d'agosto, subito derby, un derby che insomma diciamo non ha tanto insomma valore di punti perché insomma appunto arriva presto, però però un derby che insomma ha sempre un'importanza sul morale della scuola, sulla insomma diciamo sulla fiducia, una partita insomma un po' attesa da tutti e una partita insomma che l'Empoli dovrà cercare insomma di fare, guarda ragazzi domani bisogna cercare di fare insomma bene insomma i derby sono partite a sé, non sempre insomma li vince chi ha la formazione più forte insomma l'Empoli i precedenti, insomma gli scorsi due precedenti, due vittorie in casa tre anni fa con Farias e poi l'anno scorso il derby insomma della rimonta con Bandinelli e con Pinamonte rimonta insomma clamorosa, Empoli che vince questo derby e quindi ragazzi insomma bisogna da subito partire bene, aggredire subito insomma la Fiorentina loro insomma vengono da questa fatica in Coppa giovedì insomma magari non si sono spremuti più di troppo, però comunque insomma una partita in più sulle gambe insomma tutto falle, insomma anche sfruttare questo fattore qui di schierare ovviamente la formazione insomma migliore poi insomma ragazzi su questo sapete insomma io a fare la formazione non so tanto proprio però io dico solo due cose che secondo me io giocherei con il 4-3-3 ragazzi e farei una bella cosa vai rami, insomma l'accomoderei in panchina domani onestamente punti, insomma o su Baldanzi sull'esterno ragazzi, insomma un tridente magari con non so magari con Destro, con Satriano o con Cambiago o con Lammers o con Baldanzi però insomma io domani insomma diciamo appunto che i bairami lo terrei tranquilli in panchina magari non gli fa male, poi insomma non dico altro e ragazzi un Empoli insomma come ho detto doveva partire subito aggressiva, tenere la partita in piedi perché insomma i derby anche se prendi col però poi si è visto che insomma a rivaltare la gara ci vuole insomma ci vuole poco quindi insomma forza ragazzi, forza ragazzi e poi ragazzi insomma dopo la sconfitta con lo Spezia lo so che in molti insomma ci sono rimasti male perché insomma sfida contro una diretta concorrente e si vorrebbero vincere tutte queste partite qui purtroppo ragazzi insomma a mente fredda l'Empoli ha avuto le sue palle gol non la sfruttate e loro purtroppo hanno sfruttato insomma diciamo quell'errore dietro ci hanno fatto gol e poi insomma non siamo riusciti a pareggiare quella gara ma quella partita lì ragazzi non conta più nulla e ragazzi ci vuole ca però calma e pazienza non subito mettere pressione alla squadra e fare discorsi insomma senza senso non serve a nulla insomma stare vicini alla squadra, sostenere la squadra insomma subito e poi ragazzi dare il tempo insomma a zanete di integrare insomma tutti questi giocatori nuovi, capire come vuol giocare lo so insomma che il mercato ragazzi ultimamente non sta piacendo a molti a cardia un po' fermo e insomma da 15-20 giorni che insomma mancano questi giocatori che devono arrivare, arriverà qualcuno anche perché alla fine insomma del mercato non manca tanto però non bisogna avere fretta ragazzi e insomma questo Empoli insomma si valuterà secondo me tra 6-7 partite anche se in queste bisognerebbe cercare insomma che sono scontri importanti, bisogna appunto cercare di fare punti però ci vuole tranquillità, pazienza e domani tutti al Castellani a incitare la squadra ragazzi quindi tutti allo stadio e forza ragazzi e noi ovviamente ci vediamo domani nel immancabile post partita io vi saluto qui, vi ringrazio, like, commentate, condividete e iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima, ciao!